Musica Dal campo comunale di giù una grande presenza, Ivano Bordon, grandissimo portiere anni 70-80 uno scudetto vinto con la grande Inter, due addirittura. Cosa ci racconti? Inter racconto che purtroppo questa serata è stata rovinata dal tempo e ammiro i colorati e anche gli altri che in questa serata sono venuti a giocare. Io sono venuto anche l'anno scorso, ho fatto la mia presenza, purtroppo anche l'anno scorso non così, però il tempo era brutto, mi spiace, però purtroppo così non ci va avanti. Grazie mille Ivano e sempre la tua presenza in queste manifestazioni è sempre graditissima. Grazie. Grazie a voi.